allora salve a tutti e benvenuti nella valle telesina la volete vedere là dietro qui siamo belli in alta montagna e sono stato chiamato anche io a dire perché non mi sento solo in azione cattolica ringrazio emanuela per per la nomination e ho deciso di fare questo video in un posto un po più particolare un po più in alto anzi se vedete dove sono seduto mi prenderete anche per pazza perché un posto un po pericoloso però ho voluto farlo per far vedere perché non mi sento solo non mi sento solo perché con me o la mia terra o tutte le persone che ci vivono o tutte quante le persone che con cui sono cresciuto da bambino e quelle che stanno condividendo percorso con me o i ragazzi dell'azione cattolica della mia parrocchia che sono qui e stanno ridendo come come dei fissacchioni mentre io faccio questo questo video e non sono solo perché in azione cattolica sento di riuscire ad essere me stesso a levarmi tutte quante le maschere tutte quante le le coperture le protezioni e l'armatura che ognuno si mette durante durante la vita e non mi sento solo soprattutto perché perché prendo forza dall'azione cattolica della mia terra ecco perché ho voluto fare questo video da da qui su in maniera tale che voi possiate condividere con me quello che la mia zona la mia vita e i miei luoghi bene detto ciò c'è arrivato il momento delle nomination quindi ovviamente nomino tutto quanto il mio consiglio parrocchiale quindi mia sorella umberto angela silvana e biaggio quindi tutti quanti i ragazzi del del consiglio parrocchiale leonardo che è in mano la videocamera giuseppe e roberto che sono qui a sentire quello che sto facendo quindi per per vendetta e poi marina di pompei jessica di taranto e a pe poi mi verrà in mente qualcun altro sicuramente statevi bene e fino in cima mi raccomando grazie a tutti